Ha riportato diverse contusioni alle gambe, la frattura di un ginocchio Elena Greco. C'è anche lei tra gli otto feriti del terribile schianto che ieri pomeriggio è costato la vita alla sua piccola, Lucia, di tre anni appena, lungo la Romea, all'altezza di Conche di Codevigo. Ma il bimbo che porta in grembo sarebbe salvo, la donna infatti è incinta del secondo figlio. La famigliola tornava a casa, ad Olo, dopo una giornata passata al mare. Federico Tasso, architetto di 38 anni, era la guida della Nissan Qashqai Bianca quando per motivi ancora in via d'accertamento l'auto ha sbandato invadendo la corsia opposta. Non ve conferma che a causare il cambio di rotta sia stata l'esplosione di un pneumatico. Saranno le indagini della polizia stradale a chiarirlo. A quel punto una prima vettura ha evitato il SUV della famiglia ma la Hyundai Taxon che seguiva la prima non è riuscita a scartare in tempo. Un botto tremendo, poi dietro ancora una Opel Astra che ha tamponato il SUV nero. La piccola Lucia era nel sedile posteriore dell'auto bianca assicurata alla cintura che nell'urto avrebbe compresso gli organi interni. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto anche l'elisoccorso tra le urla di papà e mamma che cercavano disperatamente di rianimarla. Per la piccola dopo 40 minuti era chiaro come non vi fosse nulla da fare. L'autopsia chiarirà le cause della sua morte. I feriti, otto in tutto tra cui mamma e papà di Lucia sono stati divisi tra gli ospedali di Piove di Sacco, Padova e Chioggia. Nelle prossime ore saranno sentiti anche gli altri testimoni. Per ora solo i due conducenti della Hyundai Nera e della Opel hanno parlato con gli agenti. Il papà di Lucia infatti è ancora troppo sconvolto da quanto avvenuto.